ok così sta riprendendo diciamo che questo è il materiale l'avvio devi fare opzioni devo spostarle e basta scusa non c'è mica una cosa deficiente deficiente pronti via via non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla serito le scienze a scolovare sempre di tutto il trascinamento avanti lo faccio, c'è bisogno di quel cappellotto di introduzione quel cono di introduzione che lo usi dentro ma forse riusciamo anche a applicarlo così, cosa dici? tagliando quello qua abbiamo preso la roba più bastarda, lunga da una parte e rotonda poi è fresca grazie 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 questa fatta ex novo serve una doppia cocle, sono due cocle, una doppia cocle di cocle con due cocle, non c'è problema, più parallele, cioè con le inclinazioni giuste, una sotto, una sopra e via una piccola dentata che fa voglia, più superiore e l'altra che porta invece entro il trituratore grazie ma così non c'è storia, quindi la gancia e la pezza è finissima bastano solo anche due denti davanti, due rampine anteriori e bari il resto coclea liscia il resto coclea liscia grazie se mi casca dentro la macchina fotografica c'è da studiare il discorso delle inclinazioni perché tu adesso sei troppo alto e lui lì è in un punto morto